Allora, buongiorno a tutti. Costruiremo la sezione intitolata La pedagogia come scienza attraverso l'approfondimento di quattro punti problematici che abbiamo così intitolato. Che cos'è la pedagogia? L'oggetto della pedagogia, il rapporto tra la pedagogia e le altre scienze, la pedagogia tra soggetto, cultura e società. Partiamo quindi dal primo punto, quello che ci aiuterà a capire appunto che cos'è la pedagogia. Lo facciamo ricostruendo un po' anche l'evoluzione storica di questo sapere, del sapere pedagogico, che a partire da quella che è la radice etimologica del termine pedagogia, che si rifà al termine greco pais paidosse, che quindi in qualche modo fa riferimento ad un modello e ad un processo educativo in qualche modo delimitato soltanto all'infanzia, per cui la pedagogia per molto tempo è stata effettivamente individuata, interpretata, come quel sapere che si occupava esclusivamente dell'educazione del bambino. Bene, a partire dalla radice etimologica che identificava un certo modello interpretativo della pedagogia, assistiamo ora ad una evoluzione, io direi appunto ad un cambiamento emancipativo del sapere pedagogico, che oggi la individua, individua la pedagogia come quella scienza che si occupa dell'educazione dell'uomo e della donna per l'intero corso della vita e nella pluralità, varietà e variabilità dei tempi e dei contesti di vita. Come abbiamo modo di vedere e di capire, evidentemente questo significa una complessificazione del sapere pedagogico, che non è più interpretabile come un intervento educativo rivolto esclusivamente al bambino, ma che, come ho poc'anzi detto, si fa riferimento ad un processo che dura per l'intero corso della vita e che quindi coinvolge più persone, più ruoli, più contesti di vita e di esistenza. Questo, indubbiamente, lo dicevo prima, complessifica il sapere pedagogico, ma nello stesso tempo attesta, contribuisce ad attestare la pedagogia come una vera e propria scienza. Una scienza che però ha delle sue caratteristiche costitutive, delle sue caratteristiche connotative. Quali sono? Beh, innanzitutto noi potremmo dire che la pedagogia è una scienza teorica e pratica, cioè una scienza, un sapere scientificamente fondato, che è dotato di un proprio specifico statuto epistemologico, sia teorico che prassico, e che quindi contribuisce, in qualche modo, a definirla, a definire la pedagogia, come quella scienza della formazione permanente che si realizza attraverso l'approfondimento e la ricerca di quello che è l'oggetto della pedagogia, di quelli che sono i modelli della ricerca pedagogica, così come di quelli che sono i linguaggi e i dispositivi investigativi del sapere pedagogico. Ancora, possiamo dire quindi che, in quanto scienza, la pedagogia possiede un proprio autonomo statuto epistemologico, teorico e prassico. Quindi è una scienza autonoma. Scienza autonoma però non significa, come vedremo anche nelle registrazioni successive, autonomia non significa autarchia del sapere pedagogico, perché anzi la pedagogia ha nel suo statuto epistemologico proprio la necessità e la possibilità di intrecciarsi, di dialogare, di contaminarsi, volendo usare questo termine, anche con le altre scienze, in particolar modo con le altre scienze dell'educazione e della formazione. Qual è il proprium della pedagogia? Bene, il proprium della pedagogia è proprio quello di occuparsi specificamente della dimensione teorica, così come della dimensione prassica dell'educazione. Cosa rende complesso il sapere pedagogico? Beh, io penso innanzitutto la sua valenza trasformativa, cioè il fatto che la pedagogia sia una scienza che si proietta nella direzione del cambiamento emancipativo delle persone cui sono indirizzate la teoria e la prassi educative. Ovviamente, per potersi attestare come scienza autonoma e complessa all'interno del panorama delle scienze dell'educazione e della formazione, la pedagogia è andata progressivamente riscattandosi da una condizione di sudditanza rispetto alle altre scienze, in primis rispetto alla filosofia. Questo che significa? Significa che la pedagogia è andata gradualmente conquistandosi una propria autonomia epistemologica, tuttavia mantenendo tuttavia un dialogo e un confronto costruttivo e dinamico con le altre scienze. Questo perché la pedagogia è costitutivamente una scienza dialogica e dinamica.